Buongiorno, in questo periodo dell'anno l'evento maggiore che è stato è veramente il degradamento del prezzo dell'olio. Veramente quello che sta succedendo su questo aspetto è fondamentale. Il fatto che il prezzo sta crollando del 50% rispetto a sei mesi fa è un evento maggiore che avrà degli impatti sull'anno prossimo. Rapidamente possiamo dire che questa mossa dei prezzi è molto favorevole ai paesi consumatori del greggio, quando invece è esattamente l'opposto per i paesi che producono questo greggio. Quello che vediamo è che questo darà più del consumo a questi paesi, quando invece l'impatto sul prezzo generale, sull'indice dei prezzi, sarà abbastanza negativo. Avremo probabilmente nel 2015, nei primi mesi del 2015, dei prezzi negativi in Europa. Globalmente vediamo che l'America sta andando bene con una crescita maggiore al 2,5% e quello che sta succedendo sul prezzo dell'olio aiuterà l'America. Vediamo che c'è un ralentamento abbastanza controllato dell'economia cinese, quando invece l'economia europea rimane in una situazione abbastanza difficile con un'assenza di crescita. Globalmente quello che sta succedendo, ribadisco, è un evento positivo per l'economia mondiale. Avendo detto questo, sappiamo anche che l'impatto a livello geopolitico sarà abbastanza forte e potrebbe incrementare la volatilità che abbiamo vissuto recentemente. La reazione degli investitori durante questo mese di dicembre, di fronte a questo evento, è abbastanza tradizionale. Questo si chiama flight quality, dunque c'è un premio alla qualità, alla sicurezza. Quello che è successo è dunque abbastanza tradizionale, con un abbassamento fortissimo dei tassi a lungo termine. Adesso vediamo che siamo a dei livelli record in termini di tassi di interesse. Vediamo anche che i paesi emergenti sono stati colpiti ovunque, qualunque sia l'asset class e poi che i mercati azionari globalmente sono scesi a scapito di questo evento. Vediamo anche che il riflesso di ricerca della qualità è stato favorevole a due valute, il dollaro e allo yen, che sono considerate come delle valute più safe rispetto alle altre. Quali sono le nostre raccomandazioni in questo ambito? Manteniamo il nostro giudizio secondo il quale il mercato azionario sarà il mercato da favorire in termini di rendimento rispetto al rischio preso. La caduta che sta succedendo adesso sarà veramente a mettere a profitto per poter reinvestire sia sul mercato azionario europeo che sul mercato dei paesi emergenti. Sul mercato europeo pensiamo che possiamo farlo nei prossimi giorni. Invece, per quanto riguarda i mercati emergenti, bisognerà probabilmente aspettare uno o due trimestri in più prima di di ritornare. Ma adesso, se il mercato europeo e ancora di più i mercati emergenti sono veramente diventati molto meno cari rispetto a prima. In termini di obbligazionario vediamo che su questo mercato, su questa asset class, non c'è molto spazio per poter approfittare di una discesa addizionale dalla parte dei tassi. Comunque non pensiamo che c'è un grande rischio sul mercato obbligazionario governativo. Per poter trovare del rendimento bisogna andare sui corporate bonds o high yield dove c'è una differenza di rendimento che può essere interessante. Globalmente sul mercato obbligazionario non c'è molto rischio e non c'è molto rendimento all'orizzonte breve di uno o due trimestre. Sulle valute manteniamo il nostro parere secondo il quale il dollaro dovrebbe rafforzarsi rispetto all'euro per diversi motivi di cui una crescita maggiore in America. Vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro un bellissimo Natale e un buon anno 2015. Arrivederci.